Ciao ragazze, ciao ragazzi, finalmente un nuovo mukbang, io e Gato Denver Gato Denver? Amore mio Io e Gato Denver siamo qui pronti per una bella scorpacciata di sushi Intanto vi dico che cosa ho preso Allora, prima cosa ho preso i gamberi in tempura Che non vedo l'ora di sgranocchiare Poi ho preso 5 nigiri al salmone Non so se siano a fuoco oppure no Comunque 5 nigiri al salmone Poi ho preso questo roll fritto Con salmone, avocado No, tonno e avocado Che è buonissimo, ho già ordinato da questo ristorante E poi ho preso Ah ok, sì, no, questo dovrebbe essere con salmone e avocado Invece questi sono due roll Uno con il gambero e l'altro invece con il tonno Scusatemi se Gato Denver continuerà a piangere durante tutto il video Amore mio, è bellissimo Gato Denver è inutile che fai finta che non mangi da un mese Le crocchette sono l'agato Denver E tu devi stare a dieta, amore mio Ah e ragazzi, oggi non abbiamo la coca zero ma abbiamo la fanta zero Che va benissimo comunque Ho praticamente scatolato tutto Mi sono rimaste solo le fante Due bottiglie di fanta fuori dal frigo Sono veramente, ragazzi, nel bel mezzo Cioè sono proprio nel trasloco più totale Intanto buon appetito, scusatemi ma ho una fame Nel trasloco più totale Perché tra sette giorni, ormai sei Trasloco ufficialmente nel centro di Amsterdam Sono strafelice ma In questo momento, e sto guardando di là Perché ho una montagna di scatoloni, ragazzi Quindi non vedo l'ora davvero di trasferirmi E di non vedere più scatoloni E di non pensare più a traslochi per anni e anni a venire Se vi devo dire la verità, che mi chiedete Dove trovo tutte le energie per fare questi traslochi Non lo so neanche io, ragazzi Tra l'altro, parentesi Mi state chiedendo in tanti come mai trasloco Io ne avevo parlato nei vari vlog Però, secondo me, se non metto proprio la frase Perché trasloco nel titolo Poi tanti magari non vedono il video E quindi, ai 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 Se mi scrivete non sapete perché trasloco Perché non avete visto il video In realtà, la storia è un po' complicata Nel senso che Quando mi sono trasferita qui ad Elkmar Nonostante mi piaccia molto la zona E molto la città Mi sono resa conto Che La maggior parte Delle cose Tante non potevo neanche saperle Prima di trasferirmi Ma per tante cose riguardanti il lavoro Devo fare su e giù con Amsterdam E quindi Avevo un po' deciso Che la prossima casa Insomma, dopo anni Che sarei rimasta qui ad Elkmar L'avevo ripresa ad Amsterdam Però non avevo nessuna intenzione Di trasferirmi subito Solo che dopo Cos'è successo è Appunto, ne ho già parlato Nei vlog Quindi se già lo sapete Scusatemi ma Cos'è successo che la casa È iniziato Ho iniziato a notare Che la casa Qui aveva tanti problemini Però non era Niente di così grave Eccetera Quindi Chiudevo un occhio Diciamo, ecco Fino a quando È successo che Quando è iniziato a piovere molto Quindi in autunno È iniziato a piovere anche in casa In particolare Una volta Che Dopo quel giorno Io ho deciso Ufficialmente Di trasferirmi Proprio quel giorno lì È iniziato letteralmente A piovere Dentro in casa Io avevo un ruscello Che correva giù Per due rampe di scale Fino al piano terra Perché pioveva Cioè l'acqua entrava dal tetto Quindi È stato un disastro Ho dovuto staccare Tutte le prese elettriche Staccare l'elettricità Dal contatore Ma soprattutto Si sono formate Tipo delle macchie Lungo tutti I muri Giù dal tetto Fino a due piani giù Quindi poi Sono dovuti venire A riparare il tetto Per due volte Poi è dovuto venire Il tizio A riti Vinteggiare Tutto quanto Insomma Un casino E mi hanno detto Che è stato un po' Perché non c'era stata grandine O qualcosa Che avesse potuto Bucare il tetto Io non me ne intendo Però da quello Che mi hanno detto Il tetto Il tetto della casa È stato costruito Un po' così Nel senso Nonostante la casa Sia nuova Perché l'hanno costruita L'hanno finita Nel 2007 2008 Nuova Insomma Non vecchia In realtà Alcune cose Non sono state fatte Benissimo Evidentemente Quindi rischio Che se c'è un altro Acquazzone Comincia di nuovo A piovermi In casa Quindi Per tutti questi motivi In realtà Quindi mi sono detta Ok In questa casa Comunque non ci posso stare Quindi tanto vale Che vado direttamente Nel centro di Amsterdam Quindi è stato Un po' un concatenarsi Di eventi E In realtà Non volevo neanche Trasferirmi subito Quindi mi sono detta Ok Mi prendo il tempo Che mi serve Non ho voglia di fare Un altro trasloco Solo che dopo Ho trovato La casa Ideale Per me E quindi Non volevo Lasciarmela scappare Qui Specialmente ad Amsterdam In centro ad Amsterdam Le case Non durano tantissimo Quindi Devi veramente Essere veloce E dopo aver visto Quella casa Ho capito Che dovevo trasferirmi Perché aveva Tutte le caratteristiche Possibili Immaginabili E quindi Ho deciso Ok Mi trasferisco adesso E quindi Questa è la storia Per questo mi trasferisco Ragazzi Praticamente Perché questa casa Ha tanti problemi Proprio di Di costruzione Di struttura Non so bene Come si Come si dice Però appunto È la casa Che ha tanti problemi Quindi sarei dovuta Comunque andare via E visto che Per lavoro Devo stare Tanto ad Amsterdam Tanto vale appunto Che io vada direttamente lì Anche perché In realtà Sono a 35 minuti 30 minuti Da Alkmar Ad Amsterdam Quindi Posso venire comunque A trovare Demenza E Vic Quando voglio Ma almeno Per lavoro Ho tutto più vicino Ecco Quindi questa è un po' La spiegazione ragazzi Ho svelato il mistero Del perché mi trasferisco Volevo farvi notare Che mi hanno dato Due bacchette Stavolta Devo dire Di solito Me ne danno tre Quindi pensano Che io mangi per tre Oggi me ne hanno date Solo due Quindi pensano Che ci siano due persone Che hanno ordinato Quindi direi Niente male Quindi iniziamo Con i roll Ovviamente Salsa di sole E poi mi hanno dato Queste solite salsine Allora Il wasabi A me non piace Quindi non lo uso Proprio E poi mi hanno dato Questa salsina Strana Tipo agrodolce Non lo so Ma c'è qualcuno Che le mangia Queste salsine Perché io Non le annuso Nemmeno Non voglio averci Niente a che fare Ogni volta che mi danno Queste salsine Di dubbia provenienza Nei ristoranti Cioè Non ci penserei neanche Comunque La salsa di sole Invece ci deve essere Rigorosamente Tant'è che sicuramente Non mi basterà Quella che mi hanno dato loro Ed ho portato Anche il mio barattolo Gatto Denver Nel frattempo Si è messo anche tranquillo Riuscite a vedere Tipo Il suo sedere Scusatemi Ma si è messo Comunque tranquillo Perché in realtà Lui ha già fatto la pappa Quindi non lo so Perché era così Emozionato Per questo sushi Amore mio Amore mio Poi volevo dirvi Riguardo il mio merch Perché Youtube Ci ha messo un po' Ad approvare Tutti I prodotti E io ero lì Che scrivevo E-mail Di sperata Muovetevi Quindi adesso Dovrebbero esserci Tutti quanti Sotto la schermata Di questo video Prima della sezione Commenti Dovreste vedere Appunto Una sezione Con le cosine Del mio merch Ma ho notato Almeno alcuni Alcuni di voi Mi hanno detto Che Non sono visibili Le t-shirt E la felpa Di Denver E non so Come mai Sono in contatto Con Youtube Calcolate che Comunque il merch Rimane lì Non va da nessuna parte Non edizione limitata Nel senso che posso Decidere io Quanto lasciarlo Visibile Per voi E rimane lì Quindi non vi preoccupate Ma sto cercando Di capire Con Youtube Come mai La t-shirt E la felpa Non si vedano Ma ovviamente Mi sa che Lo vedremo Dopo Natale A questo punto Ragazzi Quindi abbiate Un pochino Di pazienza Comunque se entrate Se cliccate Sulle icone Del merch Ed entrate Nel link Nella pagina Di Teespring Dovreste riuscire A vedere tutto quanto Ma fatemi sapere Nei commenti Per qualsiasi cosa Io poi lo dico A Youtube E risolvo Tutto quanto Ragazzi Questo sushi È stra buono In particolare Il salmone Sui nigiri Si scioglie in bocca Fantastico Comunque Volevo fare In realtà Un Un mukbang McDonald Oggi Però Quando vi ho chiesto Su Instagram Che cosa volevate Che mangiassi Appunto per il mukbang In tanti Mi avete scritto Nicole sushi E quindi Mi sono sacrificata Per voi ragazzi In realtà Avevo molta voglia Anche di sushi Quindi quando ho visto Sushi 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 Ho detto Ok Sushi sia E alcuni di voi Mi hanno scritto Di ordinare Cibo tipico olandese Ragazzi Anche il roll Al tonno È buonissimo Oh mio dio Ci voleva veramente Non era da un po' Che non mangiavo sushi Peraltro Che è sorprendente Per quanto mi riguarda Ma Sto cucinando Sto cucinando Tantissimo a casa Nell'ultimo periodo E infatti Volevo dirvi che In tanti mi avete chiesto Di ordinare Qualcosina Di tipico Olandese E vi devo dire Che qui Non c'è una cucina Super elaborata Come da noi Non hanno tantissimi Piatti tipici Lo chiedevo anche I miei amici olandesi E anche loro Mi hanno detto Nicole ma cosa vuoi ordinare Cioè due piatti Abbiamo Cosa vuoi ordinare Quindi È un po' Difficile Poter fare un mukbang Con piatti tipici olandesi Hanno un sacco di dessert Buonissimi Quelli sono veramente Imbattibili Però Per quanto riguarda I primi e i secondi Non c'è Tantissimo Ragazzi Non abbiamo fatto L'anteprima Allora Allora Sì Gatto deve Lo so È sconcertante Amore mio Amore mio Lo so che le anteprime Vi piacciono Quindi io Non taglierò fuori Questa parte Perché sono parte Integrante Dei miei mukbang Ormai ragazzi Lo so Ma Sono sempre Molto imbarazzanti Per me Comunque Non so Perché sto tenendo su I nigiri Che ne so Ok Penso che possa bastare Comunque ragazzi Dobbiamo assolutamente Necessariamente Parlare di The Crown Allora Questa serie tv Su Netflix Io sono Ossessionata Allora Ho iniziato a guardarla Anche perché tanti di voi Me l'hanno consigliata E quindi mi son detta Boh Vediamo com'è In realtà In realtà In realtà non mi sono mai interessate Particolarmente le vicende Della famiglia reale inglese Quindi non mi aspettavo Che mi sarebbe piaciuta così tanto Ma ragazzi Sono alla terza stagione Tipo a fine Metà o fine Della terza stagione E non so Cioè io non so come ho fatto Mi sono vista tutti gli episodi Tipo In una settimana E più la guardo Più mi piace Quindi più episodi guardo Più mi viene voglia di guardarla ancora Inizialmente Un po' così così E poi dopo tipo il secondo Terzo episodio Basta Ero già Cioè completamente Completamente Ossessionata Non voglio spoilerare niente Se non l'avete ancora visto O se ancora non siete arrivati Alla terza stagione Però una cosa Insomma Si sa Posso dirla Sono rimasta un po' scioccata Dal fatto che abbiano cambiato Tutti gli attori All'inizio Della terza serie Cioè Capisco che debbano Ovviamente Farli invecchiare Cioè far invecchiare Gli attori Con la serie tv Quindi era ovvio Però Ci sono rimasta male Tipo non lo so Vi ero affezionata Da quegli attori E ci sono rimasta male Tra l'altro La principessa Margaret Secondo me Assomigliava molto di più All'originale L'attrice Delle prime due stagioni Io dico stagione Cioè io dico serie È il posto di stagione Perdonatemi Comunque L'attrice Che appunto Interpretava La principessa Margaret Nelle prime due stagioni Era molto più Simile Cioè Fisicamente Somigliante Alla vera Principessa Margaret Quindi Non Cioè Hanno preso Quell'attrice Che è super famosa Perché ha fatto film Di Tim Burton Eccetera È super famosa Però Fisicamente Non ci assomiglia Per niente Comunque Continuo a piacermi tantissimo Continuo a guardarla Naturalmente Non so quante stagioni Ci siano Ma spero tante Perché Se finisce Oh mio dio Neanche lo so Non è che finisce Dopo la terza E non c'è più Una nuova stagione Vero no Perché io potrei Veramente Seriamente Uccidermi Cioè Non ditemi Vi prego Che non c'è un'altra stagione Di The Crown Perché non so più Che cosa guardare È finito Bly Manor Bellissimo E adesso Spero veramente Di non finire The Crown Vi prego Ditemi che ci sono Almeno 10 stagioni Di The Crown Perché non posso Sopportare L'idea Che finisca Almeno non dopo La terza Spero Comunque ragazzi Riguardo la laminazione E le sopracciglia Che io vi ho postato Le storie Tutta convinta Su Instagram Nuova laminazione Sopracciglia Che ho fatto io E tipo Vi ho chiesto Vi piace Il 70% 75% Una cosa del genere Mi ha detto No Le preferivo prima Ho ricevuto messaggi Nicole no Allora A parte che Ho capito Piacciono solo a me Ci sono arrivata A questo Però vi devo dire Che comunque Si possono pettinare Anche un pochino Io le avevo pettinate Molto appunto Verso l'alto Però si possono pettinare Anche un pochino In modo naturale Cosa che ho fatto Oggi un pochino di più Ditemi che cosa vi sembrano Però Però Volevo aggiungere Che in tanti Mi avete detto Che non vi piace Però al contempo Ho ricevuto Un sacco di messaggi In cui mi chiedevate Nicole dove hai preso Questo kit Voglio farlo anch'io Quindi Quindi a qualcuno Mi sono reso conto Che è piaciuta Effettivamente E il kit che ho usato Ve lo dico anche qua Perché ve l'avevo già detto Su Instagram È di Beautiful Brows E si chiama Brow Bomb Set Io l'avevo preso su Amazon Però mi state scrivendo In tantissimi Che non si trova più Quindi non so A questo punto Potete provare a cercarlo Su Google Però non conosco I siti Quindi non mi sento Se non lo trovate su Amazon Di consigliare Nessun sito in particolare Perché appunto Non li conosco Quindi Non voglio mai consigliarvi I siti Che non ho provato Io stessa E che non so Se sono affidabili Ma Non so se il sito Se il brand Ha un suo sito Potete provare lì Comunque ragazzi Mi sono scritte Un po' di cose Che dovevo assolutamente Menzionarvi Alcuni di voi Mi hanno chiesto Nicole ma non fai più giveaway Perché di solito Per Natale Ho sempre fatto giveaway Eccetera eccetera Specialmente su Instagram Il discorso in Italia Per quanto riguarda il giveaway È un pochino complicato Perché teoricamente Non si dovrebbero fare Concorsi A meno che non ci sia Un notaio Che viene a fare L'estrazione Quindi eccetera E mi sono informata Perché pensavo Che avendo io adesso L'azienda con sede In Olanda Potessi farlo Ma non posso comunque Perché Il mio pubblico È italiano Quindi anche in questo caso Io dovrei andare in Italia Da un notaio Oppure qui Trovare un notaio Deve esserci un'estrazione Bisogna comunicare il tutto Al ministero In Italia Quindi è un casino ragazzi E notare che questa cosa Succede solo da noi in Italia Tutti gli altri paesi Tutti possono fare giveaway Senza nessun tipo di problema Noi invece rischiamo Delle multe Altissime Salatissime E fino a qualche tempo fa Cercavo di svincolare il fatto Perché comunque sono regali Non facevo estrazioni Non facevo Però mi hanno detto Che in ogni caso Non andrebbero fatti E quindi E quindi Non posso ragazzi Almeno fino a quando E spero che la situazione cambi Ma fino a quando Non cambia Non mi sarà possibile Organizzare i giveaway Che conoscevate Però Vi dico una cosa che Non ho mai detto Perché Cioè non aveva neanche senso Perché non è una cosa Che faccio pubblicamente Quindi non aveva senso Io a volte Negli anni Ho selezionato Delle persone Che mi seguivano Magari Sapevo Che avevano Avrebbero avuto più Felicità Nel ricevere Determinate cose Io ho contattato Direttamente Le persone Ho chiesto loro L'indirizzo E ho spedito loro Diverse cosine Quindi questa è un po' La cosa che continuerò A fare Appunto L'ho sempre fatto In silenzio Ma adesso ve lo dico Perché Non posso più fare giveaway Ma questo Posso ancora Continuare a farlo Quindi contatto Delle persone Tra chi mi scrive In privato Tra chi mi commenta Le foto O i video Eccetera Vi scrivo poi in privato E vi chiedo Semplicemente Di darmi l'indirizzo E vi mando le cosine Ovviamente Calcolate che Voi siete tantissimi E io una Quindi non riuscirò A fare regali Ovviamente a tutti Tutti non ci sono mai Riuscita Impossibile Però cerco sempre Appunto di Restituire anche Qualcosina Del tanto Che voi mi date E se io Io non me lo dimentico Mai E chi mi ha incontrato Lo sa I follower Che mi hanno incontrato Lo sanno Io ve lo dico Cioè Io non voglio dire Che mi sento in dovere Però io so Sono cosciente Del fatto Che tutto quello Che ho Se ho costruito Questo lavoro Che è anche un sogno E una passione È tutto Grazie anche a voi Che ci siete Che mi guardate Che mi seguite Che mi scrivete Eccetera Quindi Se Se mi sento così È appunto Perché voglio Un pochino Anche restituire Tanto di quello Che ricevo da voi E non sto parlando E non sto parlando solo Di cose materiali Ma anche di affetto Di una parola carina Di un bel messaggio Eccetera Quindi cerco Di restituire Sia con qualche regalino Ma anche Ma anche scrivendovi Cercando di rispondere Eccetera Se mi avete scritto Non vi ho mai risposto Io vi chiedo scusa Ma non lo faccio Assolutamente apposta Che se io vi facessi vedere Il mio inbox Su Instagram Ci sono costantemente Nuovi messaggi E io non riesco Magari a vedere Ci provo Vedo Quando c'è qualcosa Tipo nel Nelle prime parole Della frase Vedo che magari è importante Eccetera Cerco sempre di aprire Quindi io Ci sono E sono lì Che cerco E tutto Però se non rispondo Proprio a tutti Perdonatemi Ma veramente Non lo faccio con cattiveria Non lo faccio apposta Perché a volte Ci rimango molto male A volte mi arrivano Messaggi Che mi dicono Io ti seguo Da sei anni Mi avessi risposto Almeno una volta E io mi sento Molto male Per questo E mi dispiace Però Anche se io Rispondessi Questa cosa Ve l'ho detta Tante volte Però secondo me Vi fa capire bene Se io stessi 24 su 24 Rispondere tutto il giorno Comunque non riuscirei A rispondere a tutti voi Quindi è un po' Una causa persa Poi ragazzi Una domanda Che mi viene fatta Ogni anno Nel periodo di Natale È Ma come mai I tuoi gatti Non si filano L'albero di Natale Non ti distruggono L'albero di Natale Non ci si scagliano Contro Eccetera Eccetera Ragazzi Vi devo dire la verità Non lo so nemmeno io Non hanno mai calcolato L'albero di Natale I miei gatti Non gliene mai fregato Nulla Dell'albero di Natale Io sono molto fortunata In questo Perché Non mi distruggono niente Se distruggo Sono stata io A distruggere Un paio di gingilli Come li chiamo io Di vetro Ma è tradizione anche quella Ragazzi Però loro sono Veramente Bravissimi Vuoi il pezzetto di Simone Gatto Deber Fai i miei agolini silenziosi Tieni amore mio Tieni amore mio Che bravo Che bravo lui No basta Gatto Deber Basta Gatto Deber Oggi hai mangiato tantissimo Gatto Deber Lo vedranno tutti Che non sei dimagrito Per niente Sei ciccione Sei ciccione Sei ciccione Dobbiamo mettere un po' bianco Comunque mia family Come vi anticipavo Già in qualche vlog fa Questo sarà Il mio ultimo video Per quest'anno In realtà Ricomincio il 4 Dovrebbe essere lunedì Si ricomincerò con i video Lunedì 4 gennaio E noi ci rivedremo appunto Lunedì 4 gennaio Con l'home tour Della nuova casa Vuota per il momento Perché in realtà Io ricevo le chiavi il 28 E vi filmerò già il video Della casa Quindi l'home tour Della casa vuota Ma poi lo caricherò Il 4 di gennaio Ragazzi Quindi Quindi io vi aspetto Lunedì 4 gennaio Con un nuovo video Ragazzi Ho voluto fare un mukbang Chiacchiericcio Perché Mi Ogni tanto Mi sento proprio Che mi manca Fare 4 chiacchiere con voi Chiacchierare tranquillamente E quindi Penso che questo Fosse il video Adatto Per concludere Questo 2020 Che ragazzi Onestamente Sto trovando Peggiore Che poteva tranquillamente Non esserci il 2020 Schippare Dal 2019 Al 2021 Comunque Anche se mi prendo Una pausa Da youtube Da tutti i social Videocamera Computer Eccetera Ogni tanto Qualcosina Su instagram Ve la posto Comunque Quindi Seguitemi su instagram Se ancora non lo fate Ma appunto Su youtube Ci rivediamo Lunedì 4 gennaio Come ogni anno Lo sapete Di solito A natale E in estate Mi prendo sempre Una decina di giorni liberi Per godermi Insomma Anch'io Le feste Non senza di voi Perché in realtà Mi mancate Quando non filmo E quando non riesco Di interagire con voi Ma c'è il fatto Di essere sul cellulare Sul computer Davanti ad una videocamera Pertilmente 24 ore al giorno Da cui ogni tanto Devo veramente staccarmi Quindi faccio un po' Di social media cleansing Un po' di Come si dice Un po' di Disintossicazione dai social Diciamo così Quindi Mia family Questo è quanto Perché io sono Stra sazia Cioè Non riesco più a mangiare Avevo una fame da lupi Ma secondo me Ho mangiato parecchio Quindi Questo è ufficialmente L'ultimo video In questa casa Dal prossimo video Saremo già In casa nuova Ragazzi E dico saremo Perché io vi coinvolgo Sempre Ok Ve lo dico spesso Quando vado da qualche parte Dico andiamo E perché andiamo Io e voi Ok Quindi Mia family Io vi auguro Un buon Natale Buon anno Che questo 2020 Ci porti tante cose belle E che ci faccia Dimenticare No Che questo 2021 Io l'avevo già schippato Che questo 2021 Ci porti tante cose belle E che ci faccia Dimenticare Il 2020 E le cose invece Non tanto belle Che sono successe Quindi Mia family Mi mancherete Scrivetemi Che cosa farete a Natale Che cosa farete a Capodanno Mi mancherete Vi mando Mi sto emozionando Non lo so Non vi vedo dieci giorni E mi emoziono tantissimo Comunque Bacio grande Mia family Vi do anche un abbraccio Se ce la faccio Perché siete lontani Prendo direttamente La videocamera Vi do un abbraccio Fortissimissimissimissimo E vi aspetto Appunto Il 4 di gennaio Con il nuovo Home tour Della mia casetta nuova In centro Da Amsterdam Bacio ragazzi Ciao Ciao Gatronever Miau silenziosi Ciao ragazzi Vi vogliamo bene Ciao 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 ciao